Stamane abbiamo un dolce tintinnare della battiglia, mare calmo, mare sereno, tranquillo, pulito soprattutto, perché tutte le schifezze che sono state abbandonate sono state raccattate, in questo caso devo dare una nota di merito ai coloro i quali hanno l'incompensa di ripulire le spiagge e di togliere da giro vetro, vetro, vetracci, tutte le schifezze, qualsiasi immaginato. Io sono qua perché questa volta c'è il massimo del silenzio, soltanto questa tintinnia, questa dolcezza, il mare di Livorno si è riappropriato dalle proprie spiagge e in questo debbo dare atto, ripeto. Sentite, non voglio interrompere questa nottecissima, ho fatto un semplice video, ok, ora vado a rivedere e a rivedere, a rivederci e vediamo un momento, ragazzi.